I domani del fatto di cronaca qui al cimitero si riaccende il problema sicurezza? In effetti si riaccende il problema della sicurezza perché tanti cittadini che vengono a trovare sono veramente spaventati. Addirittura chi vuole venire in compagnia, chi vuole più sicurezza, noi la chiediamo perché in effetti se dobbiamo dire la verità di sera non è che ci sia tutta questa sicurezza. La gente qui ha paura, chi viene a trovare il proprio caro istinto non viene mai solo ma si fa accompagnare da un parente o amico. L'ingresso principale poi è al buio da mesi così come ci racconta qualcuno stamattina lontano dalle telecamere e per assenza di controllo da parte delle forze dell'ordine al cimitero di Catania stanno aumentando furti e scippi. All'indomani dell'omicidio della vedova di 59 anni trovata con il cranio fracassato si riaccendono i riflettori su uno dei problemi cronici del Camposanto di Catania e cioè la mancanza di sicurezza. Problema attenzionato dalla nostra emittente nei mesi scorsi ma che non ha ancora trovato una soluzione. La gente dice oggi al cimitero si sente abbandonata e a lanciare l'ennesimo grido d'allarme il presidente della sesta municipalità Lorenzo Leone. Una cosa che io faccio ora chiamo l'assessore D'Agata e chiedo un incontro e quantomeno si deve ripristinare il servizio dell'ordine e quantomeno si deve cominciare a lavorare per una videosabbellianza che il cimitero di Catania è molto grande e quindi ha bisogno di una videosabbellianza che possa mettere in sicurezza i cittadini. Fare qualcosa è in fretta dunque. Il presidente della municipalità Leone non prende tempo e al più presto invierà una nuova segnalazione all'amministrazione comunale sul problema sicurezza. L'area del Camposanto monumentale è vastissima. Gli ingressi sono presidiati dalle 7 alle 13 e dalle 13 alle 19 da un custode. Ma dentro però senza controllo dice la gente la situazione è allarmante. Sul posto stamattina anche il vice presidente della sesta municipalità Giovanni Cannavò. Da fondi sicuri non lo so se c'è o non c'è però a me mi dicono che non c'è questo servizio qua. Certo, negli anni passati c'era. Bisogna vedere, ripristinare il suo servizio in modo di vigilare bene la zona. Allora mette delle videosabbellianze.